Mentre abbiamo in campo adesso Roberto Arioldi, nostro commissario tecnico, nonché cavaliere di grandissima qualità, che monta Lady Chenue, una cala francese nata nel 99, nove anni per questa saura in cui Roberto crede tantissimo, una cala che monta già da tantissimo tempo, ha montato tutta la carriera giovanile, però ha un grosso carattere, grossa difficoltà, ma a Roberto di sicuro non ci saranno problemi, dicevo Roberto Arioldi, commissario tecnico, ma anche cavaliere che negli ultimi vent'anni ha vinto più di tutti, cinque volte campione italiano, tre volte con Paprika della Loggia o quattro volte con Paprika della Loggia, ed è ottimo il suo percorso come al solito, doppio percorso netto in un tempo di 42,56, ci sembravano veloci gli altri, lui è tre secondi più veloci di Anna Giugno e quattro di Bruno Chimirri.